Una pesa in giro. Quartiere San Vito, la passerella pedonale sarà pronta per la primavera, ma non sarà per tutti a non poter passare dall'altra parte. Saranno infatti i disabili che oggi non negano la propria amarezza. Dopo quattro anni di attesa che l'accessibilità per i disabili è stata bucciata e non si sa il perché. Abbiamo quattro anni che aspettiamo, in quattro anni penso che i soldi venivano ritimulati. Una vicenda in qualche modo già messa in conto. Per avere una rampa su cui far salire le carrozzine, il conto, sarebbe infatti lievitato di 200.000 euro, mettendo a rischio la possibilità di avviare il cantiere, spiegano dal comune. Che rilancia la decisione è stata presa di concerto con le associazioni. I dubbi e le perplessità rimangono. Come mai vengono fatti questi lavori? Per avere la possibilità di farla più ampia, spiegano dal municipio, sarebbe servito anche un esproprio e la cancellazione di un parcheggio. Per questa ragione si è deciso di procedere in questo modo.